Amici di MarciGames, bentornati su PartyAnimals. Dobbiamo buttare le bombe nella zona avversaria. Vieni qua, la mia bomba. Fammi partire. Ah, vuoi anche tu andare con loro? Vai, vai. E che parteva tirata qua? Così, lascia. Marci sta lanciando da noi. Ti ha lasciato un gorilla da noi, Marco, buttalo via. Fai anche Uga, Uga. Oh, oh. Prendile, buttile via, prendile, buttile via. No. Ma Marci sta tirando come non so cosa, ma guardalo, dai. Ma scusa, lui, come è fatta arrivare da noi? Ti hai lanciato con catapulta. Vabbè, manca a far così, però. Se vuoi, c'è un altro carico pronto, Marci, eh? Tu butta, tu butta. Tanto loro devono pensare a me. Ah, no, io dico proprio. Torna tu e ritorni anche tu. Vabbè, ok. Vai. Oh, sto arrivando delle bombe. Devi toglierle. Forse? Ah! Ok. Porca miseria. Tu quanti ne hai buttate, Nico? Tre. Eh, una, però è qua. Una, mi sa che non l'hai buttata. No, sono espose con le bombe, non ci credo. Vabbè, Marci, il campo è libero, non c'è nessuno. Eh, Marci ha vinto. Ma un attimo, loco, ma un attimo. Prima il carico, riempi tutto. Attento che dopo poco ci le lancia. Vai, aspetta. Vai, aspetta. Tirare, arriva. No, vai tu, vai tu, vai tu. No, caricami le bombe ancora. Vai. Caricale. Cioè, sono qua tutto da noi. Dove vuole buttare la spazzatura? Ah, no, stai tranquillo. Ma guarda te, guarda te. Ok. Ah! Ok, ok, vai, va bene. Hanno tre di vita. Ti sta sparando da solo, Marco. Non sto facendo questo. No! Dai, dai, sali qua, ti faccio andare, dai. Adesso torna, Marco, tieni. Vai, Marco, come sei? Ti sta buttando il bombe a giù, ma questo? Mi sono salvato la nostra isola. Buono, buono, porta tu da una bomba. Dammi un svantaggio. Com'è la situazione, Marci? Dai, loco, carica sopra. Caricami a altre. Ok. La qua, che ciuba le cose! Ruva tutto, ruva tutto. Io le sto buttando via. Ok, bene, bene. Le stai buttando, Nico? Sì, 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 tranquillo. Una l'ha buttata da solo, l'altra la lancio io, così. Buono, che sono una bomba. Perché che è che quello stai buttando il film da solo? Rocco, lo stai facendo un cacchio! C'è ma, non c'è che roba peccato! Io non le dico le parolacce! Eh, Giannato, se non ho ancora bestemmiato. Ma infatti ce l'ho. E tu, Luca, bestemmia! No, guarda, mi spiace, no. Dai. Non prendermi! Le bombe che rivante, Nico, adesso, prendi le buttele del fiume. Rocco, facciamo un caricone. Uno, vai. Sanno arrivato, arrivato, arrivato. Arrivo io, Nico, arrivo. Fammi entrare con te. Quello. Lo arrivate, Marco, vedi qua! Arrivo. Tranquillissimo, guarda tutto, molto tranquillo. Dai che c'è Marco in meno, vai, tieni le strette, manco fossero un... Lancia tutto dirà, lancia tutto dirà, lancia tutto dirà. Stato arrivando, butta la via, Marco, sono in tre, sono in tre, butta le via! Una me la tengo addosso. Sì, almeno abbiamo vinto sicuramente. Ma perché non me la vinciava? Ma porca zozza! 6 a 0! Dai, yeah! Oh, bella questa. Batti 5, Nico, grandissimo. Vieni. Guarda. Proccio miseria, loco. Levati, brutto, gorilla! Oh, ma stana, te la fa troppo ridere comunque. Cioè, bu. Ma che ordino rinco! Ma che ordino rinco! Ma che ordino rinco! Tra l'altro personaggio, ci sono due! Oh, cos'è questo? Ok? Buzzball through the ball into opponent's gates to earn points. Bello, fighissimo. Una rocket league, ci mancava questo. Rocket league in party animals. Io non so giocare, ve lo dico. Oddio, ma prende la scossa! Vai, loco, vai. Perché hai preso me, Marcin? Tira. No, 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 no. Lasciami, ha bloccato! Marco, ma andi là! Vabbè, Marcin non mi lascia, ragazzi. Credo che abbia qualche problema. Eh, però non devi beccarlo. Eh, vai, Nico, bravo. No, 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 no. Ma mi starei notando sto cane? Sì, l'ho tolto. Bravo! Ma come fa? Goal! C'ha parole, ragazzi. Oh, c'ha anche la campo! Mamma mia, guardate! Sbam! Guarda che colpa! Marmotta! Ma l'hai lasciato o te l'ha buttato direttamente? L'ho lanciata. No, l'ho lanciata io. Tu l'hai mai detto come ci s'arrampicava? Oh, l'ho dato a mosse a tua stiera! Ma perché Marco è in porta? Non lo so. Dai, loco, tira! Loco! Devi tira! Non me la 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 tira, falla! Ripia di Marmi! Marmi è il diminutivo di marmotta, non di Marci. Vai, Marco, tira là! Brava! Mazza, che corpo! Ha fatto un golasso, fatto! Tira con il mosse a tua stiera! Hai detto che sei un c***o! Ma perché? Dai, Marco, basta! Con la tira, non so come si tira, loco! Col mouse, la, loco! Come l'hai lanciata le TNT prima? Prendi il mouse e lancialo! Ah, proprio il mouse di lanciare! Ma chi mi ha fatto? Io la papera scema! No, tu sì! No! Hai preso parlo! Vai, Marci, con la papera! Mi ha stunnato la papera! Pugni, pugni! Pugni! Sì! Bravo! No! Sì! Non ci posso credere, zio! Mi ha scappato il cane! Sì, no! Lo picchiato fortissimo! No, loco! Vai, Niko, punto! Niko, puo! Vai, Niko, puo! È tuo! È tre! È due! È la marmotta! Marco, hai sbagliato, porta, vuota! Io non ce la posso fare! Ma zio, anch'io, non è facile! Guarda, guarda come arriva la marmotta! Fischia! Bomba! Io ancora non ho capito come si segna, però va bene! Tranquillo! Tu distrai lì! Marco, gioca! Una volta che so fare... Non mi prendi i comandi! Non mi prendi! Marco, sei solo, Marco, sei solo! Vai, porta, fuori! Ma vai, porta, là! Sei solo, Marco! Dopo la deve sbagliare! Ho lanciato di vera lontra! Però, manco, sì! Fenomenale! Non mi ricordo come si rotolava! C'era un modo per rotolare e andare più veloce, però non mi ricordo come si facesse! Annaggia, raga, questa non ci voleva! Mara, che fenomenale, eh! Ma in realtà come tirate, raga, lasciate i due cosi? No, tengo per un contotiro! Non si capisce, c'è troppa gente qui, allora! Allora, ho detto, vai, Marco, c'è tutta tua! Sono morti tutti! Tutti, non ce n'è uno vivo! Sì! La missata! Ma non so, non so capace, raga! Ma perché io comunque vengo sempre beccato e bullizzato! Oh, Marco, vai, Marco! Stai una testata! Sì, l'ho presa! Non ci posso credere! Oh, sto cane che rotola! E Marco! No, Marci! Bravo, Marco! Sei messo un'automigliata testata! Eh sì, io non lo sapevo, scusami! G, G! Io ancora non ho capito come si tira in tutto ciò! Ancora! Ancora io stiamo... Ma ci sei nel pad, Marci? Sì! Quadrato! Raga, ma io adesso l'ho scoperto! Sì! Ma vai! Godo, Godo! Adesso ho imparato a giocare, raga! Ho imparato! Non ne hai fatto nulla! Eh, ma adesso ho capito come me! Adesso ho capito come si fa! Scusa, non lo sapevo! Guardate, lo ho com'è a grande... Mi amareare! E anche l'ho fatto con Nico, prima ci sta! Guarda, un sette! Guarda, perché tu... Io non capisco perché mi attacchi a caso! In dribbling, DeMarc è pazzo! Io non capisco perché non va giù con le testate! Boh, DeMarc! Mamma mia, ma che giocatore! Va! Pam, pim, pum! Sì, di pam! Tre testate non è morto! Boh, va bene! No, King! Ah, di questo minigame! Guarda, pam! Prendo la palla ancora! No, 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 finire male, va a finire male! Eh, vabbè, mi ha parito! Oddio, quasi importa! Loco, è tua! Sì! No, metti in mezzo! Tu ti sei messo in mezzo! Ma ero io! Cosa vuoi dal povero cane? C'è tutto il cane! Ma perché si è ripreso subito? Vai, vai, vai! Sì! No, sempre va! Sì, va bene, va bene! Va bene, va bene, va bene! Mi mancano due, raga! Golasso, poi hai fatto veramente un bel dribbling! Bravo, bravissimo, bravissimo! Uff, perfetto! Prova su un'artier cane! No, ti prego no! Sta sfondo al mouse, è sappilo! Eh, ragazzi, adesso ho capito come si gioca! Fai te! Non gioca più da solo, Nico! Ma io sì! Io cliccavo due volte il coso per lasciare e dicevo, boh, vabbè, magari sarà così! Last one! Bravissimo! Hai preso me, Marco! Bravissimo! Hai preso me! Tutta tua in libera, proprio! Ma io non ci credo! Abbiamo perso perché Marco è stupido! Non perché tu sei scarso, non hai fatto neanche un gol dei quattro che ha fatto Marco! E ne hai fatti tanti, invece! Io ne ho fatti due, almeno! I due finali! I due gol finali! Che decretano la vittoria di questo minigioco per adesso, va bene! Tutto perché ci tengo che esca al video! Io li salvo tutti, raga! Next! Vediamo cosa ci sarà adesso, raga, sono proprio curioso! Best ok beat the ok into opponent's gator! Maa, ma raga, ormai è calcio diventato! È diventato il calcio! È ok! Che c'è questo? Ok, che si fa? Ma uno scudo! Ahia! Ma no! Mi sembra un po' eccessivo! Marco! Sì, 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 va bene, va bene! Ma non ho capito come si tira, comunque! Sempre col tiro, raga! Ok! Non è il tiro! Toglila, Nico! Marco! Arriviamo, mano! Ho fatto autorete! Ma ho fatto con io? No, è stato lui! Ma già, che tu non sei il cane! Io ho provato a darla di diagonale, ma non... Ma secondo me è gol di Nico, comunque! Non lo sai, è un gol di Nico! Eh sì, è gol di Nico! Ma no, ma ero lì in diagonale io! Nico è tra adesso la sua porta! Buono! Ma quello sono io! Pum, entrambi morti! Marci, se mi dai un altro pugno, te lo giuro, ti segnalo! Dai, loco! No, loco! Autorete! È zitto! No, Nico! Zio, pera! Vai! Arco, vai! Prego, Marco! Ma mia Marco, sei davvero fastidioso! Sì! È gol! È gol sul palo! È pazzesco! Che gol! Sto giocando da solo, raga! Guardatelo! A girare! Pum! Non è neanche nella kick-up! Mi hanno stupato prima! Ma loco dov'è, raga? Io non lo sento! Ma porca! Sì, tira! Devi solo tirare! Perché l'hai tirata fuori! Non è vero! No! No! Avevo sbagliato! A posto? Avevo sbagliato! C'era Marco in mezzo alle palle! Avevo sbagliato! Io l'ho dietro di te! Io l'ho dietro di te! Hai visto chi metteva in dubbio? Io l'ho dietro di te! Io l'ho dietro di te! Ma cosa stava facendo Nico? Esattamente! Non l'ho capito! Perché non c'era la porta di te! Mai sono te! Mai sono te! Ma stai lontano? Che sennò ti arriva l'impulso! Eccolo qua! No, vabbè, loco... Ma scimmiamo! No, no... Non così! Ma perché non ho avuto a dire no, loco, no, loco? Eh, mi hai buttato giù ancora! Io! L'ho preso il cane, Marci, vai! Uno in me... Non lo prendo! Dai, Nicoli, loco è lì! Loco, devi tirare! È lì! Ma loco, vai a prendere la palla! Non devi fare così! Eh, no! Ma non mi si è arrabbiato! Tira, loco! Tira! Ahia! Ahia! Non la posso fare, raga! L'ho fatto col Marci! Che culo, dai! Ma che gol, ragazzi! Sei veramente, guarda! A casa! Non te lo dico manco, questa! A casa! Pum! Ecco, ho salito avanti, dai! Senti, loco, non è che sei scarso, devi... Arrabbiato... Vai tu, non dico! Non devo ad uccidere questo! Oh, cagosere! Oh, c'è l'occhio colpisce, Luca! L'ho presa! Non so come! Tira, mo! Tira! Devi tirare! Ahia! Perché veramente! Sì! Mamma mia! Oddio, di poco! Dai, loco, tira! Oh, mamma mia! Zio Pera è riuscito a segnare... E' riuscito a fare un gol loco in due game in game! Mamma mia! Andiamo a come la fa... Ah, porta a vuoto, dai! In mezzo ai due portieri dove? Ti ho bucato le mani! Ok! Ma perché mi ha saltato un papero in bocca? No, no, Nico! Perché? Perché, Nico, perché? Mi ha bloccato marci! In mezzo! In mezzo! Assisto! Oddio, ci uccidi il chiare! Buono! Oh, ok! Tutto col mio! La guarda, guarda! Eh, sì, ha segnato la papera! Ha segnato la papera, raga! Eh, no! Guarda! Sì! Sì! Papera! Ha segnato la papera! Io darei ottenuto quella marcia, piuttosto! Brava, Anatra! Vai, Marco! Come si lancia l'arma! Buttati! Quanto hai fatto qui, ragazzo? Grazie, grazie, ragazzo! Eh, questo minigioco è loro! Dovremmo farne quattro e loro non farle, Nico! Ce la possiamo fare, secondo te? No! In questo video quanti ne abbiamo vinti? Due su tre? No, siamo al secondo! No, è al secondo! Questo è il terzo! È il terzo, raga! Ma è vero! Sì, siamo due a uno! Papera! Tira! Ma sto con il topo da pugni! Sì! Golasso! 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 Ma ci basta uno, Marco! Golasso! Cosa c'è, Nico? Scusate! Guardate! Guardate la, guardate la Camnico, punto! Ah no, non ci vedo! Maldo! Ma cosa sta vedendo, eh? Che cosa è successo? Golasso! Golasso! No! È solo quattro! Del goleador! Marci sette! È arrivato un nice dug in testa! Guarda! Sbam! Ah, va a morire! Ah, Natrella, dove sei! Ah, Natrella, dove sei! Ah! No, è finita! Marci riprenditi! Riprenditi! Se non ti riprendi è finita! Devi riprenderti e dare una testata! Bravo, Marco! Bravissimo! Non si è riprendito! Il giocatore più forte della storia di questo video! Sei su sei, DeMarco! Ok! Sei su sei cosa! Non è fatti qua! Sei su sei cosa! Come me ne è fatti! Bravo, loco, dai! Sei stato utile in questo minigioco! Ultimo di oggi, ragazzi! Potremmo o pareggiare, o fare 3-1 noi, o 2-2 loro! Dai, raga! Oh, mio Dio, raga! Carry the ball into the opponent's gates! È il nostro, zio, è il nostro, questo qua! È il nostro! Non me lo sento, non capisco neanche come funzioni! Ah, che così! Allo stesso identico modo! Questa nostra! Poshimio, svegliati, eh! Ha già vinto! Sì! No! Buono, 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 Marco! Non buttalo! Eh, è una presa marcia! Come si fa a fare gol? Così! Ti tenero dentro! Tipo touchdown! Ah, sì, touchdown! Che figo, raga, questo minigioco, madonna! Ammazzano, ammazzano! Marco, dove sei? Perché non mi difendi? Vai, porta libera, porta libera! Ti prendo il cane, lo porto via! Prendilo! Tu stai qua, eh, non ti rialza! Mamma, cosa ho appena fatto? Eh, mamma, io spero... Il primo che prende la palla vince! Io spero che sia il replay per quello che ho fatto, guardate, ragazzi! Il primo che prende la palla vince! Ma non è vero, qua mi son girato e mi sa, abec! Mamma! Sì, vabbè, quello c'è un po' vabbè! Vabbè, mi vuole il papero! C'ho legato, è andato, è andato a... Ma perché di invegliettivana, tra, scusa? Io credo, voglio neanche marci, in realtà, però non lo sta dicendo! Dai, loco! Ma cosa c'entro io? Ma c'entro io? Nico ha fatto una roba clamorosa, Nico ha fatto una roba clamorosa, ragazzi! Non ce la possiamo fare! Guardate cosa è successo, avevo la palla, mi ha tolto da Marco, tirandomi un pugno, ma... Devastante! 3-0! Ce la si può fare! 3-0! Ma perché la lascia? Dopo un po' la lascia apposta, raga! Ma perché stanno ridicando Marco e loco? Perché non mi fido di lui! Vai, è morto! Prendi sta palla! Oddio, me la prendo, ma ho svolto! Ma se non so come si rotola esattamente, come dovrei fare? Ma senta, guarda i comandi. L2 cerchio. Eh, dillo, cavo, ditelo prima, scemi! E poi mi pare un punto! Bel punto, però. Eh, ci credo, forse... Loco, non devi prendermi la palla, devi prendere. Hai zitto! Hai mai anche mettato un pugno. Io tengo loco, tengo loco. Eh, sono morto, bro, sono morto. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì palla tutta fermi 3 a 2 mesi ci fanno il comeback nico queste ci fanno il comeback te lo dico io mamma mia ho preso troppo tardi preso marci arrivare subito ma cosa è solo poi un attimo ma solo dove che ne abbiamo due conto detto bravo ruba vai via no che se si calza vince zio ho un problema con r2 r2 vedi che mi lascia la palla ogni tanto non me la prendi marci ogni tanto la lascia quando ti colpiscono gli altri che la lascia si opera 3 a 3 salti ti lascia la palla 3 a 0 3 a 3 milan liverpool loco se lo ricorderà bene non ricordo niente io non ricordo manco le equazioni e va bene cosa ho fatto qua e ho capito la strage c'è l'astratto perché il mio ragazzo la marmotta rotta raga non va non va dai ma non mi prende più la palla raga un problema ma non è non è mamma mia semplicemente nico ha preso me invece che a te ma no ho fatto una roba bellissima ma che stai dicendo rotta la rotta come un pazzo vai l'occhio sono morto io hai l'occhio tua la coltura mi rifiuto dai guarda guarda non me la prende più non ho premio il joy stick miso alla giocata vai tua bravo vedi che ora ti va non hai prendere col pad stai dicendo ma proprio non mi dava prima no dimmelo è sempre quel tasto loco quello che ho detto prima ricordiamo che tutto ciò è gli impari perché solo io so fare delle cose ma dite io tanto battevo io non lo so usare c'è il pad è nico che lo usa il mouse no è il tasto destro ma non so cosa prema perché è davvero semplice ma storia e play quanto sta durando ha fatto una giocata clamorosa ma sei tirato dritto ok ho tirato giù marco ma loco sta prendendo marco ti prego prendi la marco prendi lo prendi lo frenalo ma non schia tagliato un pugno la cabeza no sono morto non posso prendere marcio dai ragazzo meno male che quel 4 a 4 ragazzi ce l'abbiamo fatta abbiamo vinto una corona nessuno che si rialza magari pesante guarda come guarda ragazzi in un prossimo video da marci e tutto ciao ciao ciao